abbiamo il privilegio di avere in diretta la presidente della croce rossa italiana per roma la dottoressa debora di odati buonasera e benvenuta a tele roma 56 salve buonasera a voi presidente quando parliamo di croce rossa italiana quando magari ci sorpassa nato vettura con lo stemma quando vediamo lo stemma sul giubbotto è ci sentiamo più rassicurati perché siete davvero un'istituzione che che fa del bene senza proprio lasciare adito a interpretazioni fa del bene va sempre sostenuta la croce rossa come vi state muovendo come vi siete mossi in piena emergenza in questi due mesi sul territorio locale beh sì sono stati mesi particolarmente impegnativi anzi ne approfitto perché domani è l'otto maggio ed è la giornata mondiale della croce rossa e della mezzaluna rossa sarà ovviamente una giornata diversa da quella degli altri anni che che ci vedeva in piazza con e per le persone però ne approfitto per abbracciare virtualmente e ringraziare i tantissimi volontari di croce rossa di mezzaluna rossa che sono presenti in tutto il mondo la nostra associazione conta più di 15 milioni di volontari nel mondo 170 mila in italia ed oltre 7 mila in su roma e provincia anche attraverso la preziosa rete dei nostri comitati territoriali noi sono ormai forse tre mesi che siamo impegnati nel contrastare l'emergenza covid e abbiamo risposto ad un'emergenza sia di tipo sanitario che anche di tipo sociale sino dall'inizio siamo stati presenti attraverso i nostri servizi istituzionali quindi penso al servizio di urgenza emergenza in convenzione con ares 118 ma abbiamo anche garantito il trasporto con i nostri mezzi ad alto biocontenimento dei pazienti positivi al covid siamo stati chiamati ad aumentare le raccolte della donazione del sangue su tutto il territorio di roma e della provincia di roma e abbiamo anche fatto e garantito un'importante attività di prevenzione e di contrasto alla diffusione del virus del covid quindi siamo presenti a con i termini con la misurazione della temperatura siamo presenti presso gli aeroporti di fiumicino e siamo presenti ovunque insomma ci sia stato chiesto di essere presenti per quanto riguarda l'emergenza sanitaria siamo entrati nella fase 2 mentre forse una riflessione maggiore merita l'emergenza sociale dove molto probabilmente il diciamo il periodo di particolari crisi inizia proprio adesso quindi forse diciamo che siamo entrati e siamo in piena fase 0 perché sono notevolmente aumentate le richieste di intervento che ci arrivano dalle persone che si trovano in difficoltà che ci chiamano attraverso il nostro numero verde di croce rossa che è l'800 06 5510 che è attivo sette giorni su sette in 24 ore al giorno e dove sono sempre di più le richieste di aiuto che ci arrivano quello che noi cerchiamo di fare ovviamente di essere presenti di supportare di aiutare le persone che hanno bisogno ma cerchiamo anche soprattutto di dare voce e di ascoltare la voce delle persone che hanno bisogno chiaro e ovviamente entrando a contatto e stando in prima linea l'emergenza covid 19 presidente di odati c'è anche maggior rischio per i volontari della croce rossa italiana anche qua a roma di 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 essere contagiati ci sono state ho letto anche delle storie per fortuna lieto fine da questo punto di vista nelle ultime ore sì ovviamente noi come volontari siamo utilizziamo i dispositivi di protezione previsti però sicuramente sono attività che che ci espongono ad un ad un grande rischio in particolare noi diciamo che quello che è cambiato rispetto al nostro la nostra modalità di aiuto è che abbiamo per la prima volta dovuto aiutare tenendo le distanze nel senso che c'è una definizione che che io personalmente amo poco che quella di distanziamento sociale forse preferirei chiamarlo distanziamento fisico ecco noi abbiamo dovuto aiuto imparare ad aiutare cercando di trasmettere fiducia calore umanità mantenendo però quelle distanze che noi generalmente nelle nostre attività quotidiane e almeno ovviamente fino all'emergenza covid non eravamo abituati chiaramente e nell'opera anche di sostegno di appoggio di supporto da la croce rossa italiana croce rossa italiana roma so che ci sono anche tante tante persone comunque pubbliche tanti vip tante iniziative che stanno che stanno al vostro fianco e questo deve rendere veramente orgogliosi devo dire che noi abbiamo ricevuto grandissima solidarietà da tutta la comunità romana e non solo e questo ovviamente ci rende una un popolo bello no facciamo tutti insieme parte di quell'italia che aiuta e di cui soprattutto in questo momento c'è tanto bisogno il grande affetto che ci è arrivato ci ha aiutato soprattutto in momenti come come questi dove tutti noi abbiamo purtroppo dovuto rinunciare anche agli affetti abbiamo rinunciato a vedere i nostri genitori ecco tutta questa grande solidarietà sono stati per noi momenti importanti dei veri e propri gesti di bellezza di una bellezza di cui tutti soprattutto in questo momento abbiamo assolutamente bisogno. La fase 2 è tutto ciò che sarà fase 2, fase 2 bis, ter o fase 3 sperando insomma che il processo poi di normalizzazione del nostro status dall'altro distanziamento fisico la farò mia come definizione perché è decisamente più assecata alla definizione di distanziamento sociale questo io lo posso garantire. ecco come come intravede come intravede il futuro chi comunque da sempre in prima linea come la croce rossa italiana nella fattispecie anche nel nel riorganizzarsi ovviamente stando sempre attenti ai dispositivi. Beh inizierà esatto un momento sicuramente complesso perché come dicevo siamo entrati nella fase 2 e mi auguro di di rimanerci se utilizzeremo quel senso di responsabilità che ci deve appartenere e quindi se faremo diciamo i bravi e sicuramente però siamo come croce rossa molto preoccupati per tutte le nuove situazioni di povertà che stiamo vedendo e soprattutto perché sono notevolmente aumentate le richieste di aiuto che riceviamo ogni giorno quindi sicuramente dovremmo garantire delle risposte adeguate al tipo di domanda mi permetto di dire chiudendo il collegamento e ringraziando la presidente che in un momento in cui per carità poi le economie le tasche degli italiani non sono particolarmente piene usando un eufemismo ma tante volte in passato siamo stati abituati magari anche a diciamo sperperare qualche soldo che potevamo tenere ecco in questo caso sappiate che c'è da chi da tantissimo tempo domani dall'altro è la giornata mondiale è una data importantissima per la croce rossa e per i suoi 15 mila volontari 15 milioni di volontari ovviamente nel mondo chiaramente la possibilità anche di mantenere quell'euro in tasca in più da non buttare magari in sciocchezze ma per assicurare che poi questo tipo di servizio possa proseguire per un viaggio che deve accompagnarvi perché poi ci pensate voi a fare da guida sostanzialmente per questo nel mio piccolo da 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 cittadino italiano vi ringrazio grazie grazie a voi grazie per il collegamento presidente e buona serata e buon lavoro alla dottoressa debbo radiodati presidente della croce rossa italiana qui a roma ciao ciao ciao